Grazie a tutti i ringraziamenti all'amministrazione governale di Gori che ci ha ospitato, a chi ha parlato, a chi ha detto la sua, credo che sia uscito qualcosa di quanto meno nel silenzio tombale che areggia su questa... non abbiamo acceso un faro da 2.000 uniti di watt, ma abbiamo acceso magari una fiammella per qualcuno che magari tramite anche i nostri canali a proposito ricordo e ringrazio la collaborazione con il T-Web TV che ha ripreso questa manifestazione e spero che a Codi le nostre associazioni possano fare qualche altra cosa, così come spero che prima o poi domenico 15 vi abbassiamo. No, vi ringrazio e da qua lanciamo un messaggio che il diritto di andare a scegliersi come vivere attraverso una X, una scheda, è una cosa che non possono togliere a nessuno e ci auguriamo che chi voglia un futuro migliore insomma vada il 17 aprile a votare per il sito contro le tivette, contro le tivette e le tivette azioni grazie 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 a voi grazie grazie grazie